ok buongiorno a tutti benvenuti in germania viaggio è andato tutto a posto stranamente vi faccio vedere qualcosa se vedete là dietro vediamo un po' se riesco a farvi vedere ecco qua vedete che il cielo è decente nel senso che non fa tanto freddo è strano quest'anno fa caldo anche qua ci saranno circa cinque gradi forse quattro gradi che per essere a dicembre in germania è poco pochissimo programmi per oggi non ne ho la più palede a stamani ho dormito oggi è il 22 so solo che domani ci aspetta cena giapponese stasera mercatino di natale cena giapponese a stoccarda domani domani sera oggi credo non lo so ludisburg forse mercatino di natale ma non ne ho non ne ho l'assoluta certezza per adesso la priorità assoluta è colazione a dopo buongiorno a tutti ragazzi colazione fatta adesso la missione è non avevo registrato secondo shock missione internet questo era il vecchio cinema questo era il vecchio cinema questo quello ecco vecchio vecchio cinema dobbiamo trovare internet gira una voce che a schweikheim c'è un internet caffè ma è un po' una leggenda cioè vediamo se effettivamente esiste oppure no se esiste lo troviamo altrimenti ci compriamo una sim perché abbiamo bisogno di internet la scuola la scuola è finita e tutti i bambini che escono giornata bellissima fa caldo non sembra di essere in germania non sembra di essere a dicembre non sembra di essere a natale bene ci vediamo all'internet caffè sempre che lo troviamo ok ragazzi missione internet compiusa siamo finiti in un come si definisce un caffè vecchio stile un po' così un po' io lo definirei derrick ecco un po' un caffè ispettore derrick ecco rende bene l'idea però carinissimi c'è un bulldog bellissimo non mi sono permesso di fare video dentro e c'è un rudy un gatto bianco come il nostro l'unica contraddicazione che puzziamo di fumo di brutto però per il resto tutto ok 2.50 e ti passa la paura euro intendevo bene ciao ciao ok ragazzi aggiornamento rapido dopo la missione internet arriva la missione mercatino di natale siamo a ludwisburg e questi sono teo e freddi i nipotini con la scusa dei nipotini portiamo andiamo al mercatino di natale di ludwisburg non so cosa ci aspetta ciao 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 Siamo arrivati, con Catino di Luzi Adesso, ragazzi, il dilemma è cosa mangiamo. Ciao, Moni. Ciao. Questa è mia cognata. Improvvisamente è Natale. Se in Italia l'atmosfera natalizia non esiste, qui è ovunque. Stiamo camminando, camminando, camminando in modo da essere pronti per tutte le schifezze che ci dobbiamo mangiare dopo. Non fa freddo, ma è veramente una bellissima serata. Guardate quei tipi là dietro, eh? Quelli là, questi fanno sul serio, molto sul serio. Grazie. 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 Grazie a tutti.